A Cazzano Sant'Andrea sono finiti in anticipo i lavori per la sistemazione dell'ultima parte di Camagni nel Parco Pubblico Comunale. Siete già pronti per l'inaugurazione? Sì, effettivamente il fine lavori dell'impresa era per metà giugno, però grazie al loro intervento e grazie anche a noi che li abbiamo tenuti sollecitati quasi quotidianamente, siamo riusciti a inaugurarlo anticipatamente, il 21 maggio sabato pomeriggio faremo l'inaugurazione. Ci tenevamo a anticipare il più possibile anche in considerazione del fatto che essendo al Parco Giochi, attualmente il Parco Giochi essendo un cantiere è indisponibile, quindi venendo alla stagione bella ci premeva anticipare il più possibile e devo dire grazie all'impresa. Nel pubblico non succede spesso che le opere vengono chiuse anticipatamente, questa volta è successo e siamo contenti. Di fatto è stata realizzata la nuova biblioteca? Sì, con questa opera di ristrutturazione che abbiamo fatto a Camagni, che ricordiamo è stato un bando, dei nuovi progetti di intervento, si chiama ancora 6.000 campanili, diciamo, ma è la terminologia esatta, nuovi progetti di intervento, abbiamo preso 396.000 euro a fondo perduto, poi con i rivassi d'asta sono diventati qualcosina meno, sui 300 e rotti mila euro. Abbiamo ristrutturato il pian terreno, l'opera diciamo che nasce nel 2006, quando con un mutuo è stato finanziato la struttura, quindi la parte esterna e le solette, è stato realizzato il primo piano, dove attualmente c'è una banca in affitto dal comune, con un mutuo, ripeto, nel 2006. C'era la seconda parte che è sempre rimasta sulla carta, abbiamo approfittato di questo bando e siamo riusciti a ottenere il finanziamento e così abbiamo sistemato il pian terreno, ci sono due sale per le associazioni o comunque due sale polifunzionali che potremmo utilizzare, in più è stata realizzata una terza sala che, nelle nostre intenzioni, potrebbe diventare un domani anche realizzare magari una cucina o comunque un bar, un chiosco, adesso vedremo, questo lo vedremo successivamente perché diciamo che non era nel bando. Mentre invece al secondo piano c'è un open space dove metteremo i libri e quindi faremo nella realtà una biblioteca, molto bella secondo me, proprio l'intervento globale in sé, anche esteticamente, ha ottenuto un ottimo risultato e spero che ve lo confermeranno all'inaugurazione anche i cittadini che verranno. E inoltre siete riusciti a sistemare il parco? Sì, visto che sistemavamo appunto Camani che è adiacente al parco giochi, abbiamo approfittato e con nostri soldi, questo già stanziati nel bilancio 2015, abbiamo riusciti, abbiamo comperato i nuovi giochi per il parco, quindi abbiamo realizzato, abbiamo installato tutti i nuovi giochi col tappetino a norma, quindi antiurto e sicuramente anche quello esteticamente abbiamo tutta la zona tra virgolette messa a nuovo.